Se qualcosa può andare storto lo farà nel peggior momento possibile. La legge di Murphy insieme di paradossi pseudoscientifici a carattere ironico e caricaturale postulati dallo scienziato Edward Aloysius Murphy e compresi in una summa d'Arthur Block è perfetta per descrivere il presente dell'attacco del Bari, oggetto da inizio stagione di una diatriba sul suo allestimento con due soli attaccanti centrali a disposizione e una batteria di trequartisti esterni a completare il reparto. Un numero risicato, una coperta corta che ora giudice sportivo e infermeria rischiano di rendere un lenzuolino in vista della sfida casalinga di sabato al San Nicola con il Sutirol, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. All'assenza di Marco Nasti, squalificato dopo l'ammunizione e la quinta in stagione rimediata nella partita per San Lecco, si aggiunge infatti quella di Davide Dio. L'ex attaccante del Modena, inserito al cinquantasettesimo proprio per Nasti, aveva concluso la partita zoppicando e toccandosi la schiena. Gli esami strumentali hanno rivelato un trauma lombare, spiega il comunicato ufficiale, con il calciatore che ha intrapreso il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff sanitario. In soldoni, stop di tre settimane e a rivederci al campo al 2024. Dio, che era già stato assente per quattro giornate inizio stagione per un problema muscolare rimediato al primo turno di campionato con il Palermo, salterà con ogni probabilità anche le sfide contro Spezia, Cosenza e Sampdoria. Contro il Sudtirol, Pasquale Marino, si giocherà così la panchina con un attacco praticamente da inventare. L'unico centravanti di ruolo in squadra è il diciottenne Emsley Akpachukwu, attaccante da 29 minuti all'attivo in carriera in Serie B. La sua è una storia curiosa. Era andato a segno all'esordio il 16 settembre nell'1-1 di Pisa. È stato rispolverato a partite in corso dopo oltre due mesi tra panchina e tribuna soltanto il 25 novembre nello 0-3 con il Venezia. Se non dovesse fidarsi del classe 2005, Marino dovrebbe adattare nel ruolo uno tra Ramo e Sibilli, potendo contare poi su esterni come a Scicche e Morachioli. Strategie da affinare nel ritiro che la squadra sta svolgendo tra un hotella alla periferia di Bari e il campo di allenamento a Modugno. Di fronte ci sarà un suttiro al distante un punto e fresco a sua volta di cambio di allenatore con l'esonero di Bisoli e la promozione della primavera di Valente. Nella difesa alto a Tesina sarà a disposizione Andrea Masiello. Contrariamente alle notizie riportate nella giornata di lunedì, infatti il difensore ammonito nella partita di campionato persa domenica contro il Como non sarà squalificato. Quello incassato per lui è il quarto giallo stagionale e non il quinto. Il difensore finito in carcere è squalificato per lo scandalo scommesse del 2011 con l'autogol in Bari-Lecce 0-2 e teoricamente sarebbe tra i convocabili. Quasi certamente, però al San Nicola non ci sarà, come accaduto nei quattro precedenti della scorsa stagione, tra le due squadre.